Un'esperienza di inclusione scolastica che per tutte le allieve e gli allievi sarà preziosa nel prosieguo del loro percorso formativo. Grazie al progetto COESI, co-progettazione e sinergia, promosso dalla Fondazione per la Scuola e dalla Città Metropolitana di Torino, quell'esperienza l'hanno vissuta nei mesi scorsi 37 classi di 17 scuole secondarie di secondo grado. E l'hanno raccontata coetani, insegnanti e operatori del terzo settore nell'auditorium della sede di Corso Inghilterra. All'incontro di restituzione e bilancio finale del progetto ha partecipato la consigliera metropolitana delegata all'istruzione e al sistema educativo, Caterina Greco. Il progetto COESI è stato ideato per favorire una maggiore inclusione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità o portatori dei bessi bisogni educativi speciali. Consigliera Greco, tutto questo non sarebbe stato possibile se, come sempre, Città Metropolitana non svolgesse il suo ruolo, il suo compito, fare rete tra scuole e tra insegnanti. Ma intanto credo che sia fondamentale che Città Metropolitana svolga questo ruolo e anche perché è una sua precisa funzione quella di mettere in relazione le istituzioni a vario titolo e anche supportare progetti come COESI perché effettivamente il finanziamento arriva da Fondazione Compagnia San Paolo ma Città Metropolitana ha saputo, soprattutto con gli uffici della dottoressa Tarchi, mettere in campo risorse personali di lavoro per divulgare il progetto. Siamo partiti da nove classi, adesso sono 37, Fondazione Compagnia San Paolo ci crede moltissimo e quindi una modalità di didattica che sicuramente fa la differenza e quindi partendo da questa sperimentazione si può allargare. Questo progetto secondo me ha dimostrato che le cose possono cambiare, che quando si vuole il cambiamento avviene. Questi ragazzi sono stati straordinari perché hanno dimostrato una grande forza di volontà, uno spirito di squadra incredibile per modificare un qualche cosa che non li faceva stare così bene e sono partiti dalla loro classe, dal creare un ambiente che li facesse sentire a proprio agio e allestirlo di modo che loro si sentissero come a casa. Sono della classe seconda P del poro di Pinerolo e posso dire che questo progetto a me mi ha cambiato un sacco ma sia in un modo che mi ha cambiato di più è stato anche nell'approcciare con i ragazzi perché all'inizio non è che ero un ragazzo un po' tranquillo, proprio vivace e ne combinavo di tutti i colori ma grazie a questa esperienza ho conosciuto meglio i miei compagni e ho capito che stando in un luogo più pulito stiamo anche bene noi. La parte più interessante è stata quella dell'attuazione del progetto, quindi l'organizzazione delle uscite sul territorio che abbiamo realizzato. Quella più impegnativa è la progettazione, cioè mettere a fuoco assieme ai docenti curricolari, agli educatori e soprattutto alla classe, quelli che dovevano essere gli obiettivi da raggiungere per portare a casa l'idea di una maggiore coesione del gruppo classe. Avete imparato un metodo, confrontarvi tra insegnanti, educatori, operatori, questo quanto vi aiuterà nel vostro percorso professionale? Ci aiuterà molto, questo è stato proprio, secondo quello che riguarda il nostro progetto, il punto vincente di questo percorso. lavorando a scuola e avendo i contatti con le varie parti, insegnanti, educatori, nonché anche gli uffici è stato possibile organizzare al meglio e senza troppi intoppi, soprattutto per quel che riguarda il nostro progetto quello che vertiva l'uscita sul territorio, per cui il viaggio, il pulmo a prenotare, mettereci d'accordo e quello che è andato veramente bene è la partecipazione degli insegnanti che hanno aderito spontaneamente e questo è importante, anzi è stato di grande aiuto.